Invito a fare la sua relazione Renato Troiani. Buongiorno a tutti. Non sono molto abituato a parlare alle grandi platee, però oggi ci proverò e cercherò di farlo con il cuore. Oggi decideremo chi guiderà la FIAIP per i prossimi quattro anni. Io sono in FIAIP dal 1991, sono stato presidente provinciale, sono al secondo mandato di presidenza regionale delle Marche. Sono cresciuto in questa federazione a pane e sogni. E quando ho dovuto mettermi a dieta, qualcuno probabilmente avrà qualcosa da ridire, ma ho rinunciato sempre al pane, non ho rinunciato mai ai sogni. Questa volta il sogno era quello di avere un congresso unitario. Ci siamo andati vicini. Sono comunque molto soddisfatto, perché lo spirito con cui si è formata questa squadra è stato quello di trovare le cose che ci uniscono e non quelle che ci dividono. Sono felice di condividere il programma con tutti voi, con la mia squadra naturalmente. e sono sicuro che se qualcuno di noi dovesse avere un momento di debolezza, tutti gli altri saranno pronti a sostenerlo, con il miglior spirito di collaborazione. Sono molto felice che Sabrina Cancellieri e Giacomo Mazzilli abbiano accettato di proseguire i loro progetti di FLEP-DON e di continuare a seguire, Giacomo, il contratto collettivo nazionale, perché il nostro è un programma che nasce dal territorio, dai consigli regionali, condiviso in giunta, e poi dal comitato esecutivo uscente. Non spregheremo niente di quello che è stato fatto dal comitato esecutivo uscente. Tutto il buono che è stato fatto, tanto, tanto buono. Mi piace l'idea di ripartire dal territorio. Io ho fatto tanti anni il presidente provinciale. Mi piace ripartire dall'ascolto del territorio e delle esigenze. La sfida più grande che abbiamo è quella di tornare a parlare della professione e per farlo FIAIP dovrà farlo con delle idee condivise che devono arrivare dalla base. Il compito del nuovo comitato esecutivo sarà quello di recepire queste idee, metterle in pratica e vedere se è possibile assestare il tiro per fare qualcosa di meglio. Con una politica di piccoli passi, perché io in provincia ho fatto sempre piccoli passi, poi li ho misurati e ho visto che era il sistema migliore per perseguire gli obiettivi prefissati. Nell'ottica di conoscere meglio il territorio, dovremo conoscere sicuramente anche meglio i nostri associati, con i quali qualche volta abbiamo perso un po' il rapporto diretto, perché forse il tesseramento con le 72 ore è stato utilissimo per sbloccare tante situazioni, ma in realtà ci ha fatto perdere a volte il contatto diretto con l'ultimo associato che è arrivato. E quindi sarà bene ampliare le schede di iscrizione, gli faremo magari qualche domanda in più su quali possono essere le loro aree di interesse specifico, su perché si iscrivono a FIAIP. Bene anche FIAIP 4.0, l'innovazione tecnologica, ci permetterà di comunicare con gli associati, non solo con la mail federativa, ma soprattutto con la loro mail privata. Bene l'uso di WhatsApp, con magari delle liste settoriali, perché no? Abbiamo tanti settori, abbiamo delle persone specialmente interessate a vari settori, abbiamo un sacco di colleghe che potrebbero approfittare di tante, tante opportunità per l'imprenditoria femminile e magari poterle informare sarebbe un valore aggiunto. Dobbiamo arrivare a fornire i servizi ai nostri associati con un taglio quasi sartoriale. Io credo che solo così manterremo lo zoccolo duro dei nostri associati, freneremo l'emorragia dei rinnovi e soprattutto andremo ad attirare nuovi colleghi. A questo proposito, io sono convinto che sarà molto bene guardarci intorno per, diciamo, riuscire a studiare effettivamente, alle nostre condizioni, una grande casa per le professioni immobiliari a noi affini. Ripeto, alle nostre condizioni. Concludo dicendo che sono un uomo abituato a giocare squadra e mai come in questo momento la FIAIP ha bisogno di una squadra per ripartire insieme dopo un periodo che ha visto una grande presidenza, un grande Paolo Righi, al quale va sempre profondamente il mio ringraziamento. Ma c'è bisogno di una squadra e quindi il mio è un invito a votare l'intera squadra Baccarini. Per ultimo, mi ha fatto tanto piacere, visto che ho visto tanti congressi da Rimini, che questo sia stato un congresso dove sì, si sono accesi un po' di toni, ma assolutamente è stato propositivo e non c'è stato, passatemi il termine, quel po' d'odio che c'era stato in tanti altri congressi. Io credo che se c'è qualcosa da dire l'odio dovrebbe rendere produttivi, altrimenti è più intelligente amare questa grande federazione. Grazie. 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 Grazie.